Termina a rete inviolate all'Ocresmoca, teatro di Villalba Anzio, gara valida per il decimo turno del Giro Nea di Eccellenza. I padroni di casa erano reduci da due vittorie consecutive, ospiti da due KO. Parte forte il Villalba con il cross di Bari che non trova la girata di Regis che riesce solo a sfiorare. La partita però fatica a decollare e bisogna attendere la mezz'ora per assistere ad un nuovo pericolo. Regis riceve Raspurio, il bomber di casa subrà Rizzaro ma non fa i conti con Puccino che di testa salva il risultato. Dalla parte opposta Marino prova a scuotere i suoi con un sinistro che impegna Pagella, si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa prova a farsi vedere due volte Camilli, prima con un calcio piazzato che termina la sua corsa sopra la traversa, poi con un destro che gira all'ultimo lambendo il palo alla sinistra di Pagella. Al 23esimo il Villalba protesta per una trattenuta in area ai danni di Scotto di Clemente ma l'arbitro lascia correre tra le proteste. Al 37esimo la gioia di Taverna viene strozzata dalla bandierina alta dell'assistente che ravvisa il fuorigioco del numero 16 ed annulla la rete. Non succede più nulla, Villalba che ottiene un buon punto in ottica salvezza salendo a 12 punti, L'Anzio interrompe la serie di due sconfitte e torna a muovere la classifica.